Il segreto. Puntata domenica di Pasqua 16 aprile 2017. Le ammissioni di Ernando. Anticipazioni. Anche il giorno di Pasqua va in onda la puntata Il segreto, mentre l'appuntamento per il puntatone serale, sarà posticipato al martedì dopo Pasquetta. Nella puntata di domenica 16 aprile 2017 alle 18.45 su Canale 5 vedrete che a Puente Viejo sono ormai arrivate le guardie, che instaurano una sorte di regime militare arrestando tutti gli uomini del paese. Sol festeggia la sua gravidanza, mentre Candela teme di non poter dare figli al marito. Ernando ammette di aver di proposito evitato di avvisare Severo del pericolo anarchico. Prima parte, guardie a Puente Viejo. Nonostante gli attentati dei terroristi anarchici sembrino essere ormai un lontano ricordo, le conseguenze per il paesino di Puente Viejo sono ancora notevoli. Le prenotazioni alla locanda di Alfonso ed Emilia diminuiscono infatti di giorno in giorno, ed Onesimo ne spiega il motivo a Gignari Castaneda. Si è sparsa purtroppo la voce che la locanda sia un covo di terroristi. Il paese, intanto, viene circondato dai soldati della Guardia Reale che, con un pretesto, arrestano tutti gli uomini del paese per portarli in periferia. Seconda parte. Festa per Sol, la malinconia di Candela. La notizia della gravidanza di Sol ha portato grande gioia in casa Santa Cruz, per cui Severo decide di organizzare un festeggiamento in onore della sorella. I due giovani sono felicissimi, e sembrano trasmettere la loro gioia a tutti quelli che li circondano. Al piccolo ricevimento partecipa, naturalmente, anche Candela, la moglie di Severo. La donna è legata a Sol da affetto sincero, ed è felice per lei. Non può però fare a meno di pensare con tristezza che, molto probabilmente, non avrà più l'opportunità di provare una gioia simile, e Severo potrebbe risentirne. Ultima parte. Ernando ammette la verità. Le trame e il segreto rivelano inoltre che Camila chiede apertamente ad Ernando per quale motivo abbia tenuto nascosto a Severo Santa Cruz che era nel mirino degli anarchici e che quasi sicuramente avrebbe subito un attentato. Ernando sa di non essersi comportato bene, ma alla consorte la stessa cosa che ha detto allo stesso Severo, lo ha fatto per vendetta, perché la notte del drammatico incendio che devastò Elierale egli non ha mosso un dito per soccorrere Imella. Aria di grandi cambiamenti in paese, l'arrivo delle guardie sembra aver sconvolto G.I equilibri di Puenteviejo, e possiamo già anticiparvi che siamo solo all'inizio. Per questo vi aggiorneremo presto con nuove trame della terza stagione del segreto che prevede clamorose novità.